Avvocato, ha parlato Grieco? No, si è avvalso della facoltà di non rispondere anche perché è in un forte stato confusionale, quindi non è in grado neanche di rispondere, in quanto non sapeva che la vittima era deceduta, non era a conoscenza, è venuta a conoscenza adesso. Non si è reso conto di aver ucciso? No, assolutamente no, quindi verrà sentito successivamente, forse già in questi giorni quando verrà interrogato dal GIP. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, non l'ha detto. Quindi l'arma del delitto e l'auto? Quello che risulta ufficialmente è questo, io di quello posso parlare. L'arma del delitto e l'auto non sono stati trovati? Sono stati indicati i luoghi dove si trovano, adesso provvederanno i carabinieri e la polizia a reperirli. Quindi le indicati, sì, non durante l'interrogatorio ma in una fase di colloquio. E come mai si trovava a Pineto? Come è arrivato a Pineto? Non l'ha detto, non ha detto nulla, non ha detto assolutamente nulla. È uno stato veramente confusionale e ha difficoltà anche ad esprimersi e non riesce ancora a realizzare cosa è accaduto, quindi chiaramente ha una situazione psicologica particolarmente seria.